Buonasera, buonasera, benvenuti al TV Giornale di Telestense. Come sempre ci occuperemo di molti temi in questa edizione del TV Giornale. Parleremo dei monumenti della città, sono numerosi come sappiamo, quelli che attualmente sono sottoposti a cantiere per così dire, quindi anche parzialmente coperti e quindi vediamo, molti verranno riscoperti nell'arco del 2018, ne parliamo nel servizio d'apertura. Poi parleremo dell'indagine che riguarda il killer serbo, un armerfer alias Igor, ci sono delle dichiarazioni del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Tuglio del 7 riguardo all'indagine, ma ci sono anche delle novità riguardo a ciò che i giornali spagnoli scrivono rispetto alla detenzione di Igor. Parleremo della vexata quest e ormai delle sportine biodegradabili, cercheremo di capire quali sono le minime verità che riguardano questa vicenda che sta creando non poche polemiche sui social network e poi incentivi per l'innovazione e la registrazione dei marchi d'impresa, i presepi del Duomo di Ferrara, il Vigarano Christmas e poi le iniziative che si terranno nel giorno dell'Epifania. Ma parliamo appunto di monumenti, il 2018 sarà l'anno in cui i ferraresi e i turisti numerosi in questi giorni di festa potranno rivedere la città e soprattutto il suo patrimonio artistico sotto un nuovo aspetto. Tanti cantieri e monumenti attualmente fasciati, per così dire, nell'arco dell'anno li rivedremo nel loro aspetto originale, ancorché è rivisitato attraverso lavori di riqualificazione e restauro, talvolta di sicurezza sismica, ma non solo. Vediamo. Nella seconda metà del 2017 gli esterni del settecentesco teatro comunale Claudio Abado di Ferrara erano anch'essi molto scenografici. Grazie ai teloni artistici che coprivano le impalcature che insistevano sul palazzo. Ora però le facciate sono quasi totalmente libere ed è stata riconsegnata alla città la bellezza esterna di un palazzo da sempre nel cuore dei ferraresi. I lavori non hanno mai interferito con l'attività teatrale, il cantiere interno al comunale venne concluso già mesi fa, mentre all'esterno rimangono gli ultimi lavori. Obiettivo dell'intervento, costato un milione e mezzo di euro oltre alle migliorie, è stato quello di rendere la struttura antisismica. E proprio le scosse del terremoto del 2012 resero inagibile Palazzo Massari, storica struttura che ospitava le opere di Boldini in corso Portamare. Qui c'è un cantiere tra i più duraturi degli ultimi anni, ma presto dovrebbero essere tolte le impalcature e il maxitelone. I lavori, a cura di un'impresa bolognese e costate i due milioni e mezzo di euro, sono iniziati nell'ottobre del 2016 e in queste prime settimane del 2018 Palazzo Massari dovrebbe tornare ai suoi antichi splendori. Oltre alle migliorie e al restauro, obiettivo principale del cantiere è stato quello di rendere la struttura antisismica. Un altro monumento danneggiato dalle scosse del sisma e attualmente fasciato è la Certosa di Ferrara, un cantiere della durata simile a quello di Palazzo Massari. Iniziate a settembre 2016, i lavori per il miglioramento strutturale della Certosa monumentale di Ferrara dovrebbero concludersi entro primavera di quest'anno, mentre nella chiesa di San Cristoforo i lavori, definiti delicati e complessi, a cura di due aziende ferraresi e costati più di un milione e duecentomila euro, ripareranno i danni causati dal sisma del 2012 e miglioreranno strutturalmente l'edificio in chiave antisismica. Conclusione prevista entro giugno 2018. Ma sempre quest'anno il monumento simbolo di Ferrara, il Castello Estense, finirà al centro di lavori di restauro per sei milioni di euro. Staremo a vedere quanto il cantiere impatterà, ma come ha detto il vice sindaco di Ferrara, Massimo Maisto, i lavori non interferiranno con il tradizionale incendio di Capodanno 2018-2019, che si dovrebbe svolgere comunque regolarmente. Ora cambiamo argomento, piuttosto bruscamente oserei dire, e parliamo appunto di Northern Fair alias Igor, il killer serbo che attualmente si trova in carcere a Saragozza. Le indagini proseguono, dice il generale Tullio del Sette, comandante generale dell'arma dei Carabinieri, perché proseguono? Perché bisogna arrivare a chiarire la rezza di complicità di cui questo personaggio criminale ha goduto durante la propria fuga e ancora prima. Vediamo. Le indagini sui fiancheggiatori che hanno sostenuto Igor in russo, ovvero Norbert Fair, permettendogli di sfuggire alla cattura e di fuggiarsi in Spagna, procedono. A tornare sul tema da Bologna il comandante generale dell'arma dei Carabinieri, Tullio del Sette. Man mano ci approssimiamo di più, io sono certo che noi spenderemo fino all'ultimo quello che sarà necessario per chiarire completamente questa vicenda e assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno avuto una parte e che hanno consentito a lui di delinquere qui, poi di nascondersi e poi di delinquere anche altrove. Questo come sempre. Avevo detto che sarebbe stato catturato, avevo detto che sarebbe stato assicurato alla giustizia e stavolta, sperabilmente, definitivamente, e così è stato anche se in circostanze tragiche purtroppo. Noi proseguiremo questa attività, non c'è dubbio, arriveremo al risultato massimo che sarà possibile raggiungere. Ci spenderemo tutto come stiamo facendo, in termini di persone, sia come numero, sia come qualità di investigatori, in termini di mezzi, senza risparmio alcuno. Del 7 ha risposto così a chi gli chiedeva se fosse indifferente per i carabinieri che ferro e spila pena in Spagna e in Italia. La sconti in Spagna, la sconti in Italia. Sono delitti che ha commesso in Spagna, che ha commesso in Italia. Io credo che quello che bisogna che accada è che non possa più essere liberato per delinquere ulteriormente e che sconti in carcere le pene che ha meritato. Intanto abbiamo un altro servizio dedicato al tema di questo killer serbo che, come sapete, ha terrorizzato il nostro territorio. I giornali spagnoli parlano del comportamento in carcere del killer che, come dicevo, è detenuto attualmente a Saragossa, in un carcere di massima sicurezza, in un'area di massima sicurezza. Pare aver assunto atteggiamenti da Eremita e Francesca Verri, figlia della Guardia Ecologica uccisa da Igor, commenta, o meglio, sceglie di non commentare, dovremmo dire, su Facebook. Vediamo. Meglio tacere. È questo il lapidario commento via Facebook di Francesca Verri alle notizie sulla vita da Eremita che il killer serbo Nordwerfair, alias Igor il Russo, starebbe conducendo nel carcere di Saragozza. Francesca è la figlia di Valerio Verri, la Guardia Ecologica. Volontaria, uccisa da Nordwerfair l'8 aprile del 2016. Secondo i quotidiani spagnoli, ripresi dal resto del Carlino, il killer serbo in cella non parla con nessuno, non vuole comunicare neppure con i parenti, rinuncia all'ordaria e l'unica cosa che fa è leggere la Bibbia. Il killer è stato arrestato il 15 dicembre in Spagna, dopo aver ucciso due agenti della Guardia Civil e un allevatore che li stava aiutando nelle ricerche. La cattura è avvenuta in Aragona, nella provincia detta del Teruel, da cui successivamente il killer è stato trasferito a Saragozza, dove le misure di sicurezza sono più adatte a un individuo della sua pericolosità. Nel corso della conferenza stampa di fine anno, il comandante dei carabinieri di Ferrara, Andrea Desideri, aveva sottolineato che, sebbene il killer sia stato catturato, le indagini proseguono per chiarire la rete di complicità su cui ha potuto contare. I filoni di quest'indagine portano in Spagna, ma anche in Austria e in Serbia. Secondo i giornali spagnoli, Ora, Nordware Fair, alias Igor, è rinchiuso in una piccola cella all'interno di un reparto di isolamento, dove ci sono altri 23 detenuti. Nella stanza c'è una sola finestra che non si può aprire. Il letto è fissato alla parete e il personale del carcere controlla il prigioniero da uno spioncino. Ogni giorno la cella viene perquisita. Momenti di tensione ieri a Lido di Pomposa e anche a Codigoro, dove sono avvenuti due episodi inquietanti. Un operaio di 26 anni, residente a Lago Santo, poco dopo le 19, avrebbe minacciato con un coltello l'anziana madre nell'abitazione della donna a Codigoro a causa, a quanto pare, di vecchi contrasti tra i due. L'uomo è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata dai carabinieri di Comacchio, che sempre ieri alle 12 sono intervenuti a Lido di Pomposa per fermare e denunciare un pescatore di 62 anni, di Lago Santo, che poco prima avrebbe minacciato sempre con un coltello due donne, a causa anche in questo caso di dissidi tra le due donne minacciate e l'uomo di 62 anni. E ora andiamo a parlare delle, ormai sono diventate celebri o femmigerate, sportine biodegradabili, che vengono distribuite dal 1 gennaio a pagamento per contenere gli alimenti sfusi, frutta e verdura in maggioranza, ma insomma potenzialmente anche altri, nei supermercati e nei negozi. Polemiche sui social network, ma insomma qual è la realtà? Abbiamo provato a spiegarla brevemente in questo servizio. Sono entrate in vigore il 1 gennaio le nuove regole che impongono in tutti i negozi e nei supermercati l'utilizzo di sacchetti e sportine usa e getta biodegradabili anche per contenere alimenti sfusi come frutta e verdura, prodotti di macelleria o di pescheria. L'obbligo di utilizzare i sacchetti per gli alimenti sfusi si aggiunge all'obbligo delle sportine biodegradabili per contenere la spesa già in vigore da qualche anno. L'obbligo, precisa Ascom, non riguarda solo i supermercati, ma tutti i tipi di negozi, attività alimentari e non alimentari, ambulanti, artigiani, bar, ristoranti, pasticceria, pasticcerie, gastronomie, ferramenta, tabaccherie e così via. Chi non rispetta l'obbligo può subire delle sanzioni non da poco tra 2.500 e 25.000 euro. Le nuove norme contenute nel Decreto Legge 91 dell'anno passato sono legate a un processo di adeguamento alle regole indicate dall'Europa con una direttiva del 2015 che puntava a un utilizzo sempre maggiore negli imballaggi e in generale nelle attività commerciali di materiali biodegradabili al posto delle materie plastiche più comuni che sono molto più difficili da smaltire o riciclare. L'Italia ha rischiato una procedura di infrazione per essersi adeguata con ritardo a quella direttiva. Sia le sportine della spesa sia le bustine per la frutta e la verdura non possono essere cedute gratuitamente. È uno degli obblighi fissati per legge ed è quello che ha generato le polemiche sui social network di queste ore. In generale sacchetti e sportine devono essere ceduti a pagamento nell'ottica europea per renderne evidente il costo e favorirne di conseguenza un uso responsabile. Ma alcune associazioni di consumatori come Codacons non sono d'accordo e minacciano di lanciare nei supermercati lo sciopero dei sacchetti. E poi naturalmente staremo a vedere se questo sciopero dei sacchetti si terrà veramente. Il costo di queste sportine comunque ruota tra un centesimo e tre centesimi. Questi sembrano essere i valori medi secondo gli osservatori. E ora parliamo di contributi. Li ha lanciati il Ministero dello Sviluppo Economico con le Camere di Commercio Italiane per la registrazione di marchi commerciali a livello europeo oppure attraverso la registrazione internazionale mondiale. I marchi registrati sono uno strumento di competitività per le imprese. Molti sono stati registrati anche negli ultimi dieci anni da aziende di Ferrara e c'è questa opportunità 4 milioni stanziati a livello nazionale dal Ministero. La registrazione del marchio è uno degli strumenti attraverso cui le imprese valorizzano le proprie peculiarità proteggendo le risorse intellettuali e la propria carica innovativa e quindi incrementando la propria competitività soprattutto sui mercati internazionali. Negli ultimi dieci anni sono 657 i marchi depositati a Ferrara presso la Camera di Commercio e lo stesso ente di Largo Castello a renderlo noto prodotti di largo consumo, sistema moda, dispositivi elettronici, elettrici, ottici e digitali, occhiali, caschi e stintori. Sono questi gli ambiti più diffusi in cui le imprese ferraresi tra il 2008 e il 2017 hanno chiesto e ottenuto la tutela delle proprie produzioni in Italia e in Europa attraverso la registrazione del marchio. Le piccole e medie imprese ferraresi, spiega Paolo Govoni, il presidente della Camera di Commercio, sono tali per la dimensione di capitale e di numero di addetti che vi lavorano ma possono considerarsi grandi per le idee che ne arricchiscono l'attività, ne assicurano l'affermazione sul mercato e ne favoriscono la crescita dimensionale. Ora le Camere di Commercio italiane, in collaborazione con la Direzione Generale Anticontraffazione del Ministero per lo Sviluppo Economico, lanciano un bando finanziato con 3.825.000 euro per accordare finanziamenti a fondo perduto per un massimo di 20.000 euro a favore delle aziende che intendono registrare propri marchi. Le domande di agevolazione vanno presentate entro il 7 marzo e possono prevedere sia la registrazione di marchi dell'Unione Europea, sia di marchi internazionali. La Regione Emilia-Romagna investe 640.000 euro per la gestione e manutenzione e messa in sicurezza dei porti regionali e degli approdi fluviali in sei comuni dell'Emilia-Romagna. È la cifra messa a disposizione dalla Giunta. La quota più consistente, 540.000 euro, disponibili dall'assestamento di bilancio, servono a finanziare interventi nel porto regionale di Cattolica e nell'approdo fluviale turistico di Boretto. Altri 100.000 euro serviranno invece per spese di illuminazione, pulizia, verde pubblico, lavori di varia natura nei porti di Rimini-Cesenatico, Comacchio-Porto Garibaldi e Goro. In particolare nel Ferrarese, 20.000 euro sono le risorse che andranno a sostenere le spese di illuminazione, pulizia, segnalettica, verde pubblico, appunto, nei porti di Porto Garibaldi e di Goro. Nuove risorse che ci permettono di garantire la sicurezza dei nostri porti e si aggiungono ai 400.000 euro già stanziati nel 2017, ha detto l'assessore regionale al turismo Andrea Corsini. E dunque, in questi giorni di festività, una delle cose che si fanno è andare a vedere i presepi e nel Duomo di Ferrara di presepi ce ne sono due che vi mostriamo in questo servizio. Un presepe è allestito in occasione del Natale 2017 e delle festività e un altro che ha una lunga storia. Sono i due presepi presenti nella navata di destra della Cattedrale di Ferrara. In questi giorni, infatti, il Duomo sta ospitando queste due opere diverse tra loro. La Natività, con quattro angeli, è rappresentata con queste statue di grande formato ed è stato allestito in occasione delle festività. Mentre se si fa qualche passo più avanti, verso l'altare, si potrà ammirare il presepe donato dal gallerista Renzo Melotti, un'opera di grande valore, composta da 58 statue realizzate da quattro artisti napoletani, maestri di quest'arte. Un'opera donata dall'allora arcivescovo di Ferrara e Comacchio, Monsignor Luigi Negri, che esattamente due anni fa, dopo l'epifania del 2016, decise che l'opera sarebbe rimasta permanentemente in Duomo. Il presepe artistico settecentesco di tradizione napoletana, infatti, venne donato anni fa da Melotti all'azienda ospedaliera che lo allestì nell'ingresso dell'anello dell'ex Sant'Anna di Corso Giovecca, presepe che non venne trasferito all'ospedale di Cona nel 2012. Fu lo stesso a Melotti a proporre una sua installazione in un luogo maggiormente adatto al carattere religioso dell'opera e quindi lo donò alla diocesi. Ora il presepe è molto apprezzato e visitato. Grande musica al Gran Galà del Volontariato, Vigarano Christmas, domani sera alle 21 a Pala Vigarano. Un'occasione anche per ringraziare i tanti volontari. Vigarano Mainarda è un comune in cui il volontariato ha davvero un peso molto importante e quindi un'occasione per ringraziare i tanti volontari che operano nel paese, ma non solo. Vediamo. Un appuntamento per stare insieme, nato dopo il sisma del 2012, che colpì violentemente anche Vigarano Mainarda. È il Gran Galà del Volontariato, un'occasione di socializzazione che torna anche nel 2018 con uno spettacolo musicale di rilievo. Venerdì sera infatti al Pala Vigarano si esibirà la Swinger Orchestra. Quest'anno, il 5 gennaio, come la tradizione di sei anni a questa parte, l'amministrazione comunale offrirà un concerto gratuito, aperto a tutta la popolazione, per una sorta di augurio, di buon anno appunto al territorio. Un concerto di alto livello e gratuito in cui si potranno ascoltare celebri brani pop rivisitati in chiave jazz. La Swinger Orchestra è stata fondata 18 anni fa. Noi sugniamo tutta Italia. Il progetto che portiamo in questa edizione è un progetto dedicato alla musica pop e in soul. Il repertorio sono brani famosissimi di Steve Wonder, dei Beatles, di George Michael, di Michael Bublé. Sono interpretati da tre cantanti di grandissimo livello. Uno è Aaron Borelli che è venuto per tre volte a cantare a Capodanno a Ferrara, il cantante che ha cantato per diverse volte al Notre-Dame de Paris. Uno è Stevie Biondi, fratello di Mario Biondi, che ha una voce molto simile. E l'altro è Alan Scaffardi che è molto gettonato su Radio Monte Carlo, alcuni anni fa ha partecipato a un'edizione di X Factor. È bello vedere tre voci che hanno sicuramente un certo spessore e musicisti di altissimo livello che raramente vengono a Ferrara a suonare. Obiettivo dell'iniziativa, tra gli altri, ringraziare 400 volontari delle 34 associazioni che si spendono sul territorio locale e nazionale. È un momento di aggregazione sociale, un momento di gioia, dello star bene, di condividere le emozioni del nuovo anno, la gioia di ritrovarsi dopo le festività, scambiarsi gli auguri, insomma, ascoltare buona musica, perché dal punto di vista tecnico assisteremo a uno spettacolo davvero importante. Ecco, dopo domani è l'Epifania e appunto per questo motivo l'ultimo servizio lo dedichiamo a vedere quali sono gli appuntamenti tra Ferrara e provincia dedicati appunto alla giornata dell'Epifania, alla Befana, a partire dalla Befana dello Sport che si terrà al Palasport, che è ormai una consolidatissima e antica tradizione ferrarese e anche un po', se permettete, una tradizione di Telestense, dato che verrà trasmessa il 6 gennaio, quindi il giorno successivo alle 20.30 su Telestense. Quindi domani sera al Palasport appuntamento con la Befana dello Sport e vediamo anche tutte le altre Befane. Sport, spettacolo e divertimento, l'insegna della solidarietà. Questi gli ingredienti della Befana dello Sport di scena a venerdì 5 gennaio alle ore 20 al Palasport di Ferrara. È l'appuntamento che dal 1990 inaugura l'anno sportivo ferrarese. La ventottesima edizione sarà presentata dal giornalista sportivo di Telestense Alessandro Sovrani ed Andrea Ansaloni e sarà trasmessa sulla tv di Ferrara il giorno dopo, l'Epifania, il 6 gennaio alle ore 20.30. Uno spettacolo per grandi e piccoli, di scena al Palasport e gli atleti dei maggiori gruppi sportivi ferraresi che hanno deciso di aderire alla manifestazione. Il ricavato sarà devoluto interamente in beneficenza all'emporio solidale Il Mantello. Ma la Befana a Ferrara scende anche con il paracadute. Sabato 6 gennaio alle 14.30 torna la 33esima edizione all'aeroporto di Ferrara. Tempo permettendo, sono previsti i lanci di paracadutisti, voli di aerei e di aglianti per tutto il pomeriggio. La Befana invece si lancerà con il paracadute da una quota di 3.000 metri. Novità di quest'anno, l'opportunità di volare gratis sopra i cieli di Ferrara con i migliori piloti dell'aereoclub. Tante le iniziative per i più piccoli, sempre sabato pomeriggio, anche in piazza municipale a Ferrara e nel Castello Estense. Mentre venerdì 5 gennaio, dalla vecchia pescheria seicentesca di Comacchio, partirà alle ore 16 la singolare marcia delle Befane al ritmo di tamburi ricavati da bidoni, vecchie pentole e latte d'alluminio. Buon servizio per questa edizione del nostro TV giornale, io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona serata, non dimenticate il nostro sito internet telestense.it e i nostri profili Facebook, Twitter, Youtube per conoscere tutto ciò che di importante accade a Ferrara e nel suo territorio. Grazie, buona serata.